che è il PD Watch. Ci siete? Non è venuto? Eccoti. Oh, se non ti presenti, vabbè. Vai. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Luigi Battista e vi presento PD Watch, Parkinson's Disease Watch, l'orologio della malattia di Parkinson. Si tratta di un dispositivo per effettuare la diagnosi del morbo di Parkinson in soggetti a rischio per valutare l'andamento della malattia nel tempo e per andare a valutare l'efficacia del piano di cura in atto presso il paziente. L'idea è di realizzare un dispositivo medico completamente diverso rispetto agli altri e che sono attualmente impiegati con i pazienti parkinsoniani. Infatti deve essere un dispositivo in grado di fornire informazioni sullo stato di salute del paziente parkinsoniano 24 ore al giorno, in qualunque posto della giornata, in qualunque momento della giornata, in qualunque posto si trova il paziente, in qualunque momento della giornata. Deve essere un dispositivo facile da usare per i medici, facile da usare per i pazienti, deve essere economico, non invasivo e assolutamente non deve andare a creare impedimenti motori al paziente parkinsoniano che ha già i suoi problemi. La malattia di Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa più comune ed è stato valutato che più di 5 milioni di persone al mondo sono affette da questa malattia. Da dove nasce l'idea? L'idea nasce dal fatto che la diagnosi del morbo di Parkinson, così come la valutazione dell'andamento della terapia, risulta essere assolutamente di... risulta essere... scusate, sono un po' emozionato... Quindi si tratta, la diagnosi viene effettuata attraverso semplici test motori ed esami neurologici, quindi il paziente va dal medico e il medico in 10 minuti vede lo stato di salute del paziente e in base a questa valutazione riesce a fare una diagnosi e a vedere come va l'andamento della malattia nel tempo. Ovviamente il limite molto forte di questo tipo di indagini è che sono limitate nel tempo, invece le condizioni di salute del paziente possono variare notevolmente durante tutta la giornata. Da qui la necessità di avere un dispositivo indossabile configurato come orologio da polso, come il PD Watch. Il PD Watch contiene al suo interno un accelerometro triassiale che è in grado di rilevare in ogni momento della giornata, in qualunque posto si possa trovare il paziente, il tremore parkinsoniano, il tremore essenziale e gli altri sintomi extra piramidali. In questa maniera le informazioni sul tremore che vengono rilevate sono poi elaborate mediante un algoritmo dedicato e successivamente inviata degli operatori sanitari specializzati che sono in grado di interpretarle e quindi supportare il paziente per effettuare una diagnosi del morbo di parkinson e andare a valutare l'andamento della malattia nel tempo. Il dispositivo è oggetto di privativa industriale. Il PD Watch è costituito da due componenti principali, c'è una componente hardware e una componente software. La componente hardware è l'orologio da polso con all'interno l'elettronica di controllo, quindi il microcontrollore, l'accelerometro triassiale, il sistema di batteria e il sistema di memorizzazione. Poi ci sta la componente software che è la parte più innovativa del progetto. Infatti il software consente l'esecuzione di un algoritmo che è in grado di identificare i momenti della giornata in cui c'è il tremore parkinsoniano, in cui c'è il tremore essenziale e inoltre è in grado di andare a quantificare questi eventi, quindi vedere la durata del tremore e anche la sua intensità. Come funziona? Il paziente indossa l'orologio per 24 ore al giorno. Al termine di questa registrazione i dati vengono poi restituiti al medico, o tramite una connessione a internet o tramite la consegna di una scheda SD. Successivamente il medico si collega a una piattaforma online dove carica questi dati. I dati vengono poi elaborati e memorizzati all'interno di un server e i dati elaborati vengono poi restituiti attraverso la stessa piattaforma online al medico che in questa maniera è in grado di andare a redigere il referto. Questo sistema è già stato utilizzato su diversi pazienti nell'ambito di uno studio clinico che è stato approvato da un comitato etico. Ad esempio è stato utilizzato per effettuare la diagnosi del morbo di parkinson. Questa è una registrazione di 24 ore che è stata fatta con un paziente con un parkinson iniziale. E quello che è possibile vedere è come il PD Watch sia in grado di rilevare 5 eventi di tremore durante queste 24 ore. Questi eventi sono poi confermati dal paziente. Inoltre è possibile vedere come l'ultimo evento della giornata, il quinto evento, risulta essere più intenso rispetto agli altri. Il PD Watch è stato inoltre utilizzato per valutare l'efficacia del piano di cura in atto. Quindi con uno stesso paziente è stato effettuato un monitoraggio in un giorno dove c'era un certo dosaggio di farmaco e in una seconda giornata dove c'era un dosaggio più elevato del farmaco. Quello che si è visto è che il PD Watch è stato in grado di rilevare la riduzione del tremore essenziale grazie alla somministrazione di un dosaggio più elevato. Il dispositivo non è ancora in commercio perché manca ancora la certificazione CE. Contiamo di andare presto sul mercato e vi ringrazio per l'attenzione. Al centro. Vieni, pre-domande. Neil. Why is it so big? You can get an accelerometer in a few millimeters and a processor in a few millimeters. Sì perché devo ancora... Ha chiesto perché è così grande evidentemente. Sì. Allora è così grande... Vai. Si sente? Sì. Allora si può miniaturizzare. È così grande perché questo è ancora un prototipo quindi si può ancora miniaturizzare la parte elettronica all'interno che è una cosa che abbiamo un'attività che abbiamo già avviato però sicuramente si può ridurre. Questo è un po' più grande perché c'è una batteria all'interno che consente una registrazione anche per sette giorni. Chiaramente se decidessi di avere una durata solamente di un giorno riuscirei a mettere una batteria più piccola. Certo, quello di un giorno poi interrompi le 24 ore. Simona. Sì, hai lavorato con pazienti, con dottori? Sì, lo studio clinico prevede la mia presenza come ingegnere biomedico però chiaramente c'è un medico, un neurologo nella fattispecie che è chi effettua la visita neurologica, chi prescrive i dosaggi. Quindi non sono io la persona che fa queste attività, sono di supporto per l'algoritmo. Bruce, alcune questioni? Sono un po' preoccupato che la visita dice a tutti che ho la malattia Parkinson. Questo non sembra molto discreto. Non sarebbe meglio di costruire questa applicazione in un'applicazione Apple o in un altro dispositivo di monitoraggio di salute e semplicemente vendere l'app invece di il dispositivo? Buon punto. Se ho capito la domanda mi chiede perché, diciamo, da cosa si differenzia rispetto ad altri. No, no, c'è un problema di privacy che non è banale perché quando tu, usi questo orologio tutti dicono c'è il Parkinson. Dici, non è meglio fare direttamente un'app che sta per esempio nell'Apple Watch che così nessuno lo sa che ti stai monitorando il Parkinson? fatto di privacy e anche di discrezione immagino. Si, si possono, certo, si può utilizzare anche lo stesso hardware di altri dispositivi, quindi con lo stesso hardware. Chiaramente quello che mi differenzia dai competitor è la parte software. quindi tecnicamente io potrei utilizzare anche un altro hardware purché abbia dei requisiti tecnici in termini di frequenza di campionamento e in termini di accuratezza di campo. Infatti mi pare che combinando la domanda di Neil e quella di Bruce il consiglio è lavorare sul software. Assolutamente, assolutamente. Ciao, grazie. Grazie.